Allora Passiamo alle tre foto Con gli overall più alti Abbiamo Cansello 88 Cross 88, Modric 88 Marginio Sedona Rumo 88 Haaland Mamma mia che bella carta Mamma mia che carta bella Mamma mia Però ancora 88 Bernardo Silva 88, Ruben Dias 88 Nova 88, Ter Stegen 88 Praticamente il Manchester City 88 Simulator Poi Ederson 89 Allora Casemiro solo 89 Io l'avrei fatto 90 Son 89 Manet 89 Vabbè ci sta Vabbè Black ci sta Un botto che l'hanno downgradato Neymar 89 Mamma mia C'è Neymar Quest'anno Raga segnatevelo farà il devasto Perché ovviamente c'è il mondiale E guarda caso c'è il mondiale Messi, Mbappé, Neymar Hanno trovato l'intese Stanno spaccando tutti Ma Neymar quest'anno farà il devasto Però gli avrei dato 90 Non 89 Sincero E top 10 Non è vero Non è la top 10 Però vediamo Forse sì Sì è la top 10 Vediamo Ronaldo 90 Messi 91 E tutti gli altri 91 Quindi non c'è un calcettore più forte Lewandowski distrutto Perché non corre Ronaldo e Messi non corrono più Cioè Messi ha 81 Ronaldo ha 81 Ma la vedono la Premier League questi Boh Benzema Sembra una carta anche decente Mbappé sarà rotto in culo Quest'anno l'ho anche trovato A dicembre E l'ho utilizzato Ci ho fatto 700 partite Mamma mia che fenomeno Ronaldo purtroppo Allora Vi posso dire una cosa Io quest'anno ho provato Sia Messi che Ronaldo Carte oro E riesco a usare più Messi che Ronaldo Cioè Ronaldo non Infatti Ho paura che anche quest'anno Ronaldo non sia utilizzabile Non è che non è utilizzabile Ho paura che non corre Anche se hanno abbassato la velocità Molti Quindi magari Il meta non è più Che serve un giocatore velocissimo Però se non serve un giocatore velocissimo Vuol dire che Mbappé Fischia Parte dalla porta Arriva dall'altra porta L'avversaria In 5 secondi Boh Regalo ora non lo so Cioè Lewandowski L'hanno downgradato Che ha fatto 50 gol Boh Vabbè Io avrei da ridirci Questi ovvero Allora Courtois Van Dijk E Noyer ci stanno Salah pure Ma Ronaldo E Messi Allora Secondo me Io sono dell'idea che Ormai Tutti e due Cioè ok Che Prima ho detto Neymar Mbappé Messi stanno facendo Allora Hanno trovato l'intesa È vero Messi Se Mò continua così Probabilmente L'anno prossimo Forse nei 30 candidati D'oro Del 30 candidati Per il palone d'oro Ci arriva Dizio che quest'anno Non ci è arrivato Ma Ronaldo sì Però regà Io vi ricordo Che l'anno scorso L'ultima La stagione La stagione è appena Finita Ronaldo Tre volte Player of the world E tante altre cose Capocanone del Manchester United Se Ronaldo Se Ronaldo non era Lo United Lo United Andava fuori Anche dall'Europa Quindi boh Cioè non lo so Poi tra l'altro Adesso in teoria Ronaldo mi sa che Rimane allo United Ho sentito Boh io Fossi lui Me ne andrei via Però Non ci sono squadre Cioè mi abbasserei L'ingaggio Piuttosto Che andare in una squadra Che gioca con la Champions Boh vabbè Vedremo ragazzi Vedremo Questi sono gli overhaul di FIFA Overhaul un po' scandalosi Direi Allora Non vedo l'ora di giocare Perché non vedo l'ora Però adesso vi faccio vedere Un attimo delle carte Cioè guarda qua Che carta Nunez Guarda che carta Nunez Mamma mia Nunez